E' finita la scuola e ragazzi ho fatto questo video qua per augurarvi il buon Natale e buon che mi ha aiutato a giocare quindi lo dovete ringraziare poi niente che ora andrò a riprendere stai su youtube? stai su youtube? si guarda ho creato il canale dopo te lo faccio vedere ci siamo del villaggio buon Natale a tutti e come al solito ragazzi ci siamo del villaggio ci siamo del villaggio